eccellenza buongiorno siamo circondati da musica da ragazzi per questo evento molto molto particolare è vero è vero intanto i ragazzi esprimono con la musica la voglia di vivere di vivere bene di vivere felice di vivere in un mondo diverso unito e poi ragazzi più piccoli hanno espresso con questo buscolo l'interesse per la storia della città del vaticano per le guardie svizzere e si sono interessati a questa storia che hanno poi espresso attraverso fumetti non possiamo che essere contenti anche dal vaticano hanno espresso il loro ringraziamento siamo qui a dire che uniti possiamo provare a rendere più belle le nostre città e più rappacificato il nostro mondo diamo il nostro contributo ciao